Grazie all'intervento di un poliziotto fuori servizio, due straniere residenti in Lombardia sono state arrestate dalla squadra mobile di Venezia, evitando che derubassero anziani che prelevavano denaro al bancomat di una banca di mestre. Il modus operandi era semplice. Una delle due si era postata nei pressi del bancomat, dicendo ad un anziano che erano rimasti 20 euro nella fessura dell'apparecchio, invitando la vittima a rimettere la tessera perché fosse erogato l'intero importo. Quando l'anziano ha ripetuto il procedimento, la donna si è appropriata della tessera con il codice PIN, facendo credere che fosse stata bloccata dal bancomat. Messo a segno il primo colpo, la donna ha preso di mira un secondo anziano, ma a quel punto un agente fuori servizio che stava entrando in banca si è insospettito ed è intervenuto. La seconda donna, che aspettava la complice a bordo di un'automobile, ha tentato di fuggire investendo l'agente, che ha riportato contusioni ad una gamba. Sul posto sono giunte le volanti, che hanno fermato la straniera. Le indagini hanno poi portato a identificare la complice e a sequestrare altre tessere bancomat. Le due sono accusate di furto aggravato, rapina aggravata e in debito o utilizzo di carte di credito.